Io non conoscevo Mario Amato e ho conosciuto prima il suo lavoro, le sue inchieste, attraverso ciò che emergeva durante l'inchiesta relativa alla strage di Bologna del 2 agosto 80. Ho avuto poi modo di conoscere la sua famiglia, sua moglie, sua figlia, suo figlio, i suoi parenti, diventandone anche amico. Quando ho affrontato le letture relative alle sue inchieste, mi sono imbattuti in scritti come questo. Come risultato, dopo l'indagine che fece seguito all'omicidio del giudice occorso del 1976, gli investigatori persero il bolso di quanto avveniva in questo ambiente. A fronte dell'impressionante sviluppo di atti terroristici di Chiara Marte, matrice neofascista, fin dal 1979 nessuna indagine complessiva fu rivolta a quest'area politica. Quando questo fu avviata, un solo sostituto procuratore, Mario Amato, fu investito del compito di riunire e trattare una moltitudine di procedimenti contro i gnoti rivendicati da sigoli di destra e per farlo, notano amaramente i sostituti che ne raccorsono l'eredità, è significativo che si debba ricorrere alla spulciatura del registro generale della procura, della strage. Fino allora i fascicoli venivano delegati, più o meno casualmente, a sostituti diversi. Anche Fioralanti, l'esecutore della strage di Bologna, quando parla di quei momenti durante il processo per la strage, riconosce che vi furono forze dello Stato stesso a cui eravamo simpatici fino a quel momento, poiché ci consideravano figli della borghesia, lasciandoci scorazzare liberamente per tutta Roma. Quando si comincia a delineare la portata, e qui segue lo scritto, quando si comincia a delineare la portata della sua indagine e l'ambiente versivo ne percepisce la pericolosità, contro Amato si scatena con l'aiuto della stampa una vera e propria campagna di criminalizzazione al contrario, che lo dipinge come un fazioso teso a soffocare ogni spazio di espressione della destra. Nella campagna si distingue l'ordine forense romano, che in un durissimo documento di protesta sollecita un provvedimento disciplinare contro di lui per aver ordinato l'arresto di Paolo Signorelli. Le sue pressanti richieste di venire affiancato da altri collegi incontrano la sistematica latitanza del procuratore, che neppure lo sollevava dai soliti compiti ordinari di udienza. Si tende conto che tutto ciò si verificava mentre il procuratore assegnava ben cinque sostituti ad una squallida vicenda di scommesse calcistiche, il cosiddetto toto nero. Alcuni magistrati lo attaccarono apertamente e altri gli consigliano di seguire la tradizionale linea morbida nei confronti della destra. Quando le sue indagini si appuntano per la prima volta su ambienti e personaggi di alto livello, la sua eliminazione diventa un passaggio obbligato per la progettualità di tutto l'ambiente aversivo. Se nonostante non gli viene fornita alcuna protezione, solo, disarmato, senza scorta, Amato incontrerà i suoi killer la mattina del 23 giugno 1980, mentre a Zende l'autobus, Fioravanti e Mambro, posteggiarono l'assassinio con una cena a base di Ostriche e Sampagne. Solo dieci giorni prima della sua uccisione, Amato denunciò l'assenza di cooperazione in una mara deposizione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura e disse «Io parlo di tipi come Freda, come Signorelli, come Sacucci, come Ventura. Io ho le prove, per esempio dell'attività che continuano a svolgere tipi come Conte Cutelli e Tutti. Si tratta di un'azione di pressione nei confronti dell'ambiente giovanile e del movimento sociale. Vi sono un sacco di ragazzi, o addirittura come i miei, i vostri figli, o come i figli di persone assolutamente perbene, che vengono armati o comunque instigati ad armarsi. Ne troviamo con armi, con silenziatori, occolti nel momento in cui stanno ammazzando». Queste sono le cose che ho letto di Mario Amato e poi nel procedere l'inchiesta sulla strage di Bologna evidenziò come molte di quelle persone che lui citava erano coinvolte e potevano essere fermate se solo si fosse voluto. Le inchieste del giudice Amato fornirono spunti preziosi agli inquirenti che indagavano sulla strage del 2 agosto 80. Durante il processo contro i suoi uccisori incontrai la moglie e le dissi «se suo marito avesse potuto indagare e andare fino in fondo non vi sarebbe stata la strage alla stazione». E questo non è una frase tanto per dire, ma gli atti lo dimostrano. Tutta l'associazione che rappresento si stringe attorno alla famiglia nel ricordo di una persona esemplare che ha messo al primo posto il compimento del proprio dovere pagando con la propria vita. Grazie di avermi invitato. Grazie a tutti.